Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 dei migliori proiettori laser. Vi invito a dare un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti i link dei prodotti e le migliori offerte del momento e adesso passiamo alla top 3 dei migliori proiettori laser. Quindi cominciamo con il proiettore laser Epson. Cominciamo con il proiettore laser Epson, questo modello è l'entry level del marchio e rappresenta una scelta eccellente in termini di trapposto qualità prezzo. Naturalmente si tratta ancora di un prezzo piuttosto elevato perché i proiettori laser sono comunque prodotti di fascia molto alta, tuttavia il prezzo è giustificato dalla facilità d'uso e dall'estrema qualità. La cosa più comoda è che non è necessario installarlo, è sufficiente posizionarlo vicino alla parete per effettuare la proiezione risparmiando spazio ed evitando di installare un proiettore sul soffitto. In termini di qualità dell'immagine questo modello è ovviamente un modello full hd, consente una proiezione con una dimensione massima di 120 pollici, dispone inoltre di tutta la connettività necessaria e persino della funzione chromecast ad esempio. Inoltre è anche un televisore android, questo è l'aspetto che rende questo modello così eccellente perché in un'unica scatola avete un televisore e una proiezione. Non c'è bisogno di molti accessori, questa box da solo vi permetterà di guardare la tv, il film, le serie, giocare i videogiochi eccetera. Anche l'audio è eccellente perché è dotato di altoparlanti Yamaha. Poi troviamo il proiettore laser Xiaomi Mi. Passiamo a un concorrente di Epson nel mondo dei proiettori laser con questo proiettore Xiaomi Mi. Abbiamo un modello che in termini di facilità d'uso è altrettanto valido del modello precedente. Basta posizionarlo vicino alla parete dove si desidera guardare i film, le serie o altro e il gioco è fatto. Non è necessaria un'installazione complicata. Poi in termini di qualità dell'immagine siamo molto bene con un proiettore da 5000 lumen per una definizione full hd. Anche la dimensione massima di proiezione è eccellente con 150 pollici. Ancora una volta si tratta di un box che permette di fare tutto e tutto è facilmente controllabile tramite il telecomando. E per finire ecco il proiettore laser Epson. Per concludere troviamo il marco Epson con il modello top di gamma del marco che è semplicemente il modello superiore al modello che abbiamo presentato in precedenza. Ancora una volta abbiamo un proiettore laser con una proiezione ultra corta che ci permette di risparmiare spazio e tempo e di non dover installare nulla. Inoltre la qualità è semplicemente incredibile con una qualità 4k e una funzione 3d che si tratta di guardare sport, film, programmi televisivi o altro. Questo proiettore laser sarà perfetto. Inoltre è anche un box all in one con funzionalità Android TV in modo da poter avere tutto direttamente sul box e non doversi preoccupare di un mucchio di box diversi. Ecco grazie per aver seguito questa top 3 spero che ti sia stata utile. Non esitare a mettere un like, un commento e ad iscriverti al canale è sempre un piacere. Ti ricordo anche che ho messo i link dei prodotti e le migliori offerte nella descrizione puoi vedere tutto ciò e su questa nota ti dico a presto per un nuovo video.